Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un nuovo video potteriano molto speciale perché apriremo assieme un'intera box delle nuove figurine panini dedicate al Wizarding World. Ma di questo parleremo tra pochissimo perché intanto vi ricordo che utilizzando il codice sconto 7POTTER su Pampling potrete avere il 20% di sconto su qualsiasi vostro acquisto da qui all'eternità. Questa è una maglietta tema Stranger Things che ho preso di recente proprio lì su Pampling. Ma ragazzi prima di cominciare voglio segnalarvi due nuove uscite, la prima è questa qui, il cofanetto Blu-ray dell'ottava stagione del Trono di Spade che va bene, ok, lasciamo perdere la qualità delle puntate, può essere piaciuta o meno, ne abbiamo già parlato tantissimo, però questo cofanetto che mi è stato inviato da Warner Bros è davvero spettacolare, davvero bellissimo. Intanto troviamo così la copertina con il Trono di Spade e gli occhi del Drago che si vanno a fondere col Trono, mi è piaciuta tantissimo questa scelta. E poi togliendo la slipcase abbiamo quest'altro cofanetto con il dettaglio del Trono di Spade che poi racchiude al suo interno un ulteriore cofanetto. E ragazzi guardate quanto è bello, da questa parte troviamo il Trono con Jaime, con Arya, con Bran e con Daenerys, invece nella parte interna ecco che troviamo Sansa, Tyrion, Cersei e Jon, tutti seduti sul Trono di Spade. Perché naturalmente per chi non avesse visto ancora la serie chissà chi ci andrà a finire seduto con le sue belle chiappe. E poi all'interno ecco che abbiamo una veduta di A Prodo del Re col Drago qui da questa parte, ecco qui per intero la trovo molto molto bella. E poi tre Blu-ray che contengono i sei episodi e tutti i vari contenuti speciali che sono segnati su questa cartina. Abbiamo anche cinque scene eliminate e poi commento di attori e registi, abbiamo anche tutto un dietro le quinte sulla creazione dell'ultima stagione del Trono di Spade e naturalmente i sei episodi conclusivi. Io lo trovo davvero molto molto bello ma sono uscite anche tantissime altre versioni che naturalmente troverete sotto linkate in info box tra le quali ragazzi una Collector Edition che è davvero qualcosa di spettacolare che vi consiglio di andare a guardare. Trovate tutto sotto linkato. Seconda segnalazione che voglio assolutamente fare e mi fa piacere farla adesso che siamo a ridosso del Natale perché può essere una buona idea regalo è l'uscita di questo volume qui che mi è stato appena inviato dagli amici di Oscar Volt Mondadori che vi consiglio assolutamente di seguire su Instagram, trovate sotto il riferimento. E ragazzi si tratta della versione Drago illustrata dell'Ombra del Vento di Carlos Ruiz Zafon. Zafon è uno dei miei scrittori preferiti, io ho divorato tutti i suoi libri, Marina ad esempio è tra i miei preferiti e questo qui L'Ombra del Vento è il primo volume che fa parte della tetralogia della Biblioteca dei Libri Dimenticati. E ragazzi io ve lo consiglio tantissimo. Questo volume è pieno di fotografie che vanno ad arricchire tantissimo la lettura e poi Zafon secondo me è tra i migliori scrittori del nostro periodo, della nostra epoca. Io lo metto assolutamente al pari della Rowling, quando vado a leggere un suo libro mi immergo totalmente nelle ambientazioni. I suoi libri sono ambientati in Spagna e siamo nella Spagna post seconda guerra mondiale e devo dire che sono davvero bellissimi. Ma di cosa parla questo libro? Vi do una piccola infarinatura così per stuzzicare il vostro appetito, il vostro languorino. Questo libro è ambientato, come vi dicevo, in Spagna nel 1945 e il protagonista è il piccolo Daniel. Daniel lavora nella libreria di famiglia, una libreria modesta che si trova appunto a Barcellona e lavora lì con suo padre e al compimento del suo undicesimo compleanno suo padre lo porta in questa libreria, in questa biblioteca dei libri dimenticati. È un posto segretissimo che si trova lì a Barcellona, infatti il padre gli fa promettere di non rivelare a nessuno dove si trova questa biblioteca e tradizione vuole che la prima volta che si mette piede in questa biblioteca bisogna scegliere un volume e prendersene cura per tutta la vita. Ed ecco che il nostro Daniel, il nostro protagonista, sceglierà L'Ombra del Vento. L'Ombra del Vento che appunto viene riprodotto qui in questa versione Drago che ragazzi a me fa impazzire, è davvero bellissima. Guardate, sembra proprio un libro antico, un libro vecchio abbandonato con la costa qui tutta strappata, logora. E ragazzi, volete mettere, non avere l'ansia di ricevere il libro rovinato perché comunque è già di suo rovinato per effetto di questa antichizzazione della copertina. Quindi può arrivare in qualsiasi condizione, anche totalmente strappato. Andrà sempre bene e non dovremo prendercela col corriere, almeno per una volta. Il piccolo Daniel, una volta portato a casa il suo libro, comincerà a leggerlo e comincerà a trovare dei parallelismi davvero tetri con la sua vita, con le sue esperienze e addirittura incontrerà un personaggio nella vita reale che è contenuto anche all'interno del libro L'Ombra del Vento. E questo scatenerà una serie di eventi che ragazzi non sto qui a spoilerarvi ma che vi consiglio assolutamente di leggere. Naturalmente trovate il link per acquistarlo scontato sotto in infobox e nella mia vetrina Amazon nella sezione Libri Consigliati. Ringrazio ancora una volta Oscar Vault per avermi inviato questo volume ma adesso passiamo all'unboxing dell'album di figurine. Eccolo qui ragazzi tra le mie mani il nuovo album Panini dedicato alla saga, intera saga di Harry Potter e naturalmente possiamo dire che è un po' come un dalla pagina allo schermo una sorta di racconto del dietro le quinte, del making of di tutti i film della saga e ho trovato questa idea davvero molto molto carina. Questa versione la trovate naturalmente già in edicola e in questa busta che ha il costo di 4,90€ trovate sia l'album con la scatolina dove raccogliere le card che trovate in ogni confezione di figurine e anche 5 pacchetti di figurine. Tenete conto che un pacchetto di figurine costa 1€ qui ne trovate 5 quindi sarebbero già 5€ invece al costo di 4,90€ trovate sia i pacchetti che l'album che praticamente non pagherete. Quindi io la trovo molto molto bella come confezione e molto conveniente. Ma andiamo finalmente ad aprirla aspetto da un bel po' di giorni ed ecco qui, ecco qui il nostro album con la copertina se non sbaglio questa è la versione del trio che proviene dal prigioniero di Azkaban comunque nel caso correggetemi sotto nei commenti e poi dietro troviamo questa nuova versione che mi piace tantissimo dello stemma di Hogwarts. All'interno troviamo qui all'inizio proprio dell'album troviamo questa parte qui da staccare che va a creare la scatolina che servirà a contenere le card perché all'interno di ogni pacchetto trovate 4 figurine classiche e una card da collezione. Qui avete anche la checklist con le 50 card che potrete trovare e naturalmente adesso noi apriremo sia la box intera da 50 pacchetti di figurine che i 5 pacchetti che erano inclusi nell'album e vedremo se completerò la raccolta delle card. Ecco qui il pacchetto appena montato è stato davvero semplicissimo non serve scotch, non serve colla, non serve nulla quindi lo mettiamo da parte e può contenere le 50 card che troveremo nei pacchetti di figurine. Andiamo ad aprirne un paio poi aprirò il resto da me e vi farò vedere naturalmente quelle più belle, quelle più significative e poi su Instagram naturalmente vi metterò qualche foto delle pagine dell'album quindi nel caso seguitemi Antonio.seria Ecco intanto la prima figurina abbiamo trovato Silente poi qui troviamo Tom Riddle naturalmente troveremo tutte le scene più famose e più belle dei vari film qui ad esempio ecco che troviamo il lupo mannaro e poi troviamo la quarta figurina che è quella col bordo olografico molto molto carina spero si veda nel video e qui troviamo la scena d'ingresso nella sala grande della scuola di Bubaton durante il calice di fuoco e poi ecco qui la prima card da collezione questa è la numero 46 e troviamo Fred e George sono davvero molto molto belle sono di cartoncino sono fatte molto bene stampate altrettanto bene quindi prima card trovata vediamo apriamo un altro pacchetto di figurine e poi passerò in rassegna da solo tutte le bustine altrimenti questo video durerebbe 20 anni e poi vi mostrerò tutto il meglio qui troviamo una scena tratta dal ballo del ceppo con Harry e Ron qui il Ghigoro con Allok questo è già purtroppo un doppio quella l'abbiamo vista prima e poi abbiamo qui il ragno al quale vengono inflitte tutte le maledizioni senza perdono e poi ecco la seconda card qui troviamo un primo piano di Cedric Diggory ma adesso andrò di spacchettamento selvaggio dell'intera box e poi vedremo quali card avrò trovato e se riuscirò a raccoglierle tutte 50 ragazzi sono passati circa 20 minuti di spacchettamento selvaggio e adesso possiamo fare un bilancio delle figurine che ho trovato intanto vi dirò che le figurine sono davvero molto molto belle adesso sicuramente ve ne farò vedere qualcuna in sovraimpressione le più belle secondo me naturalmente sono quelle là col bordo olografico e mi piacciono davvero moltissimo ogni scena è assolutamente iconica è stata scelta con molta molta cura e quindi quest'album mi piace tantissimo mi piace anche molto il fatto che all'interno dell'album sono riportati dei fatti e delle curiosità ma parliamo adesso di numeri siamo pratici ragazzi ho aperto 55 pacchetti di figurine queste sono tutte le figurine che ho trovato quelle mancanti mentre questo mazzetto qui è quello dei doppi quindi devo dire che sono stato molto molto fortunato non so dirvi se ho già completato l'album quello magari ve lo dirò su Instagram però credo di essere assolutamente a buon punto però questo ve lo saprò dire più nello specifico anche sotto nei commenti una volta caricato il video è finito di incollare tutte le figurine sull'album per quanto riguarda le card sono stato un pochino più sfortunato sono bellissime adesso ve le mostrerò più nel dettaglio mi piacciono davvero tanto alcune sono dei veri e propri artwork la mia preferita in assoluto è quella di Ron con la strillettera e tutti i vari personaggi in background come il serpente i suoi fratelli eccetera eccetera davvero molto molto bella altre sono tratte dalle locandine altre sono scene e foto promozionali che si erano viste un po' online durante la promozione dei film però sono davvero stampate molto bene e danno un effetto foil molto molto interessante alcune di queste carte quindi assolutamente approvate io su 55 pacchetti ho trovato 33 card differenti e il resto purtroppo doppi quindi più di 20 doppi sono comunque contento perché in ogni caso sono a oltre metà della collezione delle carte e naturalmente adesso potremmo scambiare tutte queste che invece sono quelle doppie quindi naturalmente su Instagram mandatemi tramite messaggio privato le vostre card doppie e cercheremo di fare qualche scambio così da aiutarci a completare le nostre collezioni ragazzi io vi consiglio assolutamente quest'album è davvero molto molto bello mi piace far ripercorrere tutta la saga cinematografica e poi ragazzi non avremo mai abbastanza album di Harry Potter nelle nostre collezioni sono sempre bellissimi e naturalmente restiamo in attesa l'anno prossimo del nuovo film di Animali Fantastici e quindi nel 2021 forse non l'anno prossimo quanto tempo è passato tra un film e l'altro per Animali Fantastici neanche lo so più però ragazzi sicuramente avremo anche l'album del prossimo film di Animali Fantastici Intanto comunque non siamo stati lasciati a bocca asciutta quindi dedichiamoci a questa raccolta qui ragazzi detto questo fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate se l'avevate già acquistato se non eravate a conoscenza di questa nuova collezione naturalmente contattatemi per i vostri doppi potremmo fare naturalmente degli scambi io adesso vado di corsa ad attaccare tutte le figurine sull'album quindi avrò un pomeriggio molto impegnativo e ragazzi naturalmente vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace commentare condividere il video con i vostri amici e noi naturalmente ci rivedremo prestissimo con tante altre novità ciao